Favorire la circolazione dei crediti fiscali lo prevede la proposta di legge di iniziativa consigliare che stabilisce che gli enti economici regionali e le società controllate dalla regione possano acquistare i crediti fiscali delle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali. L'ambito di applicazione è quello dei crediti che discendono dagli interventi rientranti dal cosiddetto super bonus, sia sisma bonus che l'eco bonus, nonché le opere di ristrutturazione edilizia. Un provvedimento che passa con un voto a maggioranza trasversale a favore il PD, i Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi a una non risposta del governo. Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese. Quella del super bonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano. Io mi auguro che in futuro, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col super bonus, c'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare, c'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico, ma non possono essere i cittadini a farlo. Quindi abbiamo bisogno degli incentivi, ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo e soprattutto non di continui cambi di normative su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà. Questo è quello che abbiamo provato a fare oggi. Sono molto orgogliosa che lo abbiamo fatto tutti insieme, anche al di là delle differenze politiche, perché quando i cittadini hanno bisogno la politica tutta ci deve essere. Io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge, perché oltre ad aprire questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della regione toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelasse crediti cattivi, ma in realtà questa è una possibilità che viene sì contemplata, ma che è scongiurata dal fatto che si tratta di crediti certificate e attestati. Quindi sono crediti buoni e in questo modo cercheremo anche, sotto questo punto di vista, di creare l'effetto virtuoso di liberare anche quelle risorse che acquisendo in pancia i crediti possano poi rimettere liquidità a sostegno del sistema economico. La regione toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben sei punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti e con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. E lo ricordiamo ancora, il super bonus edilizio è stata una misura che l'Unione Europea intendeva e intende ancora esportare e che, come loro stessi hanno detto, se fosse continuata avrebbe potuto generare una ricaduta economica molto positiva nel corso degli anni. Si astiene il gruppo misto. Non mi convince perché questo super bonus è stato veramente un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. E quindi io credo che la mia astensione voglia rappresentare un qualche cosa che non è stato sviscerato fino in fondo. Italia Viva non partecipa al voto, provvedimento rischioso. Teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi. Così pure la Lega. Abbiamo diversi dubbi su questa proposta. Abbiamo chiesto quali saranno le società partecipate della regione toscana che potranno acquistare i crediti. Concretamente non c'è stata data risposta, se non è veramente molto confusa. Inoltre abbiamo chiesto se il fondo a garanzia del 20% sia sufficiente per garantire la regione toscana. Inoltre parliamo veramente di poco, di 5 milioni di euro, quindi veramente un pannicello caldo. E inoltre tengo a leggere proprio la scheda finanziaria la quale dice che la possibilità, la proposta di legge si sostanzia nella possibilità per gli enti pubblici, economici e regionali per le società partecipate della regione di acquistare crediti fiscali, dalle banche e quindi non dalle aziende, non dai cittadini, dalle banche. Voto unanime dell'Aula la nuova legge ed iniziativa consigliare in materia di soccorso alpino e spelelogico. Al SAST viene attribuito un ruolo centrale per le attività di soccorso in montagna con una convenzione ad hoc attraverso la quale vengono definite nel dettaglio le attività interventi di soccorso infortunati o in pericolo di vita, ricerca e recupero dei dispersi, recupero dei caduti, attività di prevenzione anche attraverso la formazione e il concorso in qualità di struttura operativa della protezione civile agli interventi in caso di eventi calamitosi. Approvata la legge che disciplina il soccorso alpino e speleologico della regione toscana e riconosce il ruolo fondamentale e istituzionalizza il ruolo del soccorso alpino che è importantissimo in questo particolare momento dove la montagna diventa sempre più una montagna frequentata da turisti anche dopo la drammatica vicenda della pandemia per una ricerca di un rapporto diciamo diverso con la natura e con l'ambiente e impegna ancora di più gli uomini e le donne del soccorso alpino. Con questa legge noi riconosciamo questo ruolo, ne definiamo i compiti e incentiviamo sia gli aspetti relativi al miglioramento del servizio sia quelli che riguardano l'informazione ai cittadini e il tema importantissimo della prevenzione. Mettiamo a disposizione un budget economico e valorizziamo il luogo, il logo del soccorso alpino in modo che sia riconoscibile da parte di tutti i toscani e di tutti coloro che frequentano le nostre montagne. Nel voto unanime è accolto anche un emendamento presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia. Quindi è giusto che la regione toscana intervenga per legge come oggi abbiamo fatto per regolare appunto il soccorso alpino. Intanto ringraziando le tante donne, tanti uomini con una capacità incredibile, con una preparazione oltre la media, che sono a disposizione appunto di chi va a giro per la montagna e poi mettendo per iscritto alcune norme. Tra queste io ho chiesto e è stata accettata, tant'è che è diventata legge che siano individuati dei fabbricati da mettere a disposizione il soccorso alpino, che possono essere utilizzati per magazzino, per tenere materiale di intervento, penso a una barella, e che possono essere utilizzati anche come luogo di sempre aperto, come luogo di bivacco. Semplicemente perché anche se qualcuno non è ferito ma cambia repentinamente il tempo, in montagna può succedere, viene la nebbia, viene il bue, viene l'acquazzone o del vento forte, si possa sapere che in determinati luoghi per 365 giorni l'anno, per 24 ore al giorno, comunque c'è un rifugio appunto con il regime di sempre aperto, cioè un bivacco. Quindi una legge importante che va a regolare appunto il rapporto del soccorso alpino e che è un ulteriore passo in avanti per la sicurezza in montagna. Con un voto unanime l'Aula del Consiglio regionale modifica la norma in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Si parla di quelle private ma ad uso collettivo. Lo svuotamento adesso sarà possibile almeno una volta ogni tre anni. Fino ad oggi la legge imponeva uno svuotamento all'anno. Ciò non sarà più necessario qualora siano rispettati i parametri a garanzia dell'igiene, delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. Una norma che nasce anche con l'obiettivo di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica. Un ambito di applicazione specifico è quello delle piscine, degli agriturismi, campeggi e strutture simili che sono ad uso pubblico ma riservato ai soggetti che sono alloggiati. Per questa categoria di piscine era possibile, secondo la normativa nazionale, prevedere da parte della regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni tre anni quando ricorrono alcune condizioni e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che verranno dettagliate in un regolamento che la giunta deve approvare, dice la legge, entro 15 giorni dalla pubblicazione e che nella sostanza saranno meccanismi di pulizia a fondo della piscina, meccanismi di chiusura invernale superficiale della piscina, forme di pulizia dei bordi che spesso i gestori di queste strutture già fanno ma che se fatti in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante. Questa è una legge molto importante che va incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno una piscina soprattutto ad uso ovviamente pubblico e collettivo così così come è definita e come tale non soltanto alberghi, agriturismi, attività in campagna, condomini ma non solo strutture che poi danno opportunità di utilizzare piscine ad uso pubblico la possibilità di non dover svuotare ogni anno l'acqua è un elemento che da una parte comporta un grandissimo risparmio economico dall'altra una grandissima risposta in termini di risparmio idrico la risorsa acqua sappiamo con bene imprescindibile, fondamentale, bisogna tutelarla come tale bene che si possa verificare su base annua e non solo ovviamente il rispetto di alcuni parametri questo può impedire di dover svuotare tutti gli anni le piscine che dovrà essere fatto potrà essere fatto ogni tre anni. Credo che sia una questione di buonsenso cioè con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno ma farlo ogni tre anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari. Cristiano Benucci è il primo firmatario di una mozione presentata dal gruppo del PD in tema di asili nido. La richiesta alla giunta è quella di allargare la possibilità di accesso gratuito al servizio mediante l'innalzamento della soglia. Ise è richiesta. Lo facciamo sulla scorta del fatto che dopo il primo anno di applicazione dei 40 milioni stanziati ne sono stati impiegati soltanto 31 milioni e mezzo e questo ha interessato il 58% dei bambini che frequentano i nido. Ci sono margini di aumentare di tanto la frequenza dei nidi della Toscana che si pone all'avanguardia su questo settore, arrivando ad una media prima tra le regioni italiane al 43%, però noi riteniamo che il nido sia una parte integrante del sistema educativo dei bambini e quindi debba essere, come dire, ampliata al massimo la possibilità di partecipare a tutti i bambini di qualsiasi condizione sociale, di qualsiasi condizione economica. Interrogazioni urgenti e risposta immediata da parte della consigliera della Lega Elena Meini. Si parla di inquinamento d'Acheo con la richiesta di avere l'elenco aggiornato dei siti interessati e le azioni di bonifica intraprese e quelle da intraprendere. Sì, io più che delle risposte direi delle non risposte. Dopo le dichiarazioni dell'assessore Monni siamo stati inondati di mail, di telefonate da parte di cittadini preoccupati e loro non sanno ancora se i loro territori dove loro vivono, dove loro lavorano, dove loro fanno attività sportiva sono o non sono coinvolti dall'inchiesta, se è stato o no sversato del Cheu all'interno di quei territori. Sono passati ormai più di tre anni, tre anni e mezzo, da quella indagine che ha scoinvolto la Toscana e ancora oggi la Regione Toscana non è in grado né di dirci effettivamente quanti sono i siti coinvolti né di dirci qual è l'iter procedurale e quali sono, perché sono più di uno l'iter procedurali, per le bonifiche. L'iter che coinvolge i privati, l'iter che coinvolge le amministrazioni pubbliche, l'iter che coinvolge direttamente la Regione Toscana si continua a fare un elenco, perlomeno 13, quelli che risultano ad oggi vecchi siti coinvolti molti dei quali ancora non bonificati, si dice la Regione ci ha messo 15 milioni, sì per fare che cosa ancora oggi non lo sappiamo, a che cosa ci si appella a un ulteriore ricorso dopo la sentenza del Tar e quindi andremo anche in Consiglio di Stato per continuare un iter burocratico e una procedura che non ha funzionato e che non funziona. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!